Ragusa e i suoi comuni continuano ad attestarsi tra le province siciliane più colpite. Non c'è un solo settore che sia privato o pubblico che non debba fare i conti con il virus. Sono 81 i nuovi positivi registrati in provincia nelle ultime 24 ore. Continua ad aggiornarsi continuamente il bollettino dei contagiati che adesso nel ragusano contano quota 1.254. Dopo la notizia di due sacerdoti positivi e delle suere della casa di riposo di Ragusa, si apprende di un altro prete di Ragusa trovato positivo, sempre all'interno di una struttura per anziani nel capoluogo di provincia. A Pozzallo il Covid ha costretto il sindaco Roberto Ammatuna a disporre la chiusura al pubblico al comando dei vigili urbani. La decisione è arrivata dopo che un vigile, in servizio nella città marinara, è risultato positivo. In provincia eblea sono in tutto 27 i decessi di persone colpite da Covid dall'inizio della pandemia. Principalmente si tratta di persone anziane già destabilizzate da un quadro clinico grave. Al momento invece sono 88 in tutto i ricoverati negli ospedali ragusani con le terapie intensive Covid predisposte al Giovanni Paolo II e al Guzzardi di Vittoria. Il comune Ipparino oggi, nonostante la sua zona rossa, segna 524 contagi. Pedalino e Comiso in preda al panico e l'ansia con l'aumentare dei casi e dei ricoveri, seppur 5 al momento. Comiso è una città relativamente piccola e, stando ai dati di ieri, il sindaco Maria Rita Schemberi si mostra preoccupata per l'eventuale propagarsi di contagio, che ad oggi sono 127 positivi. È morto ieri sera nel reparto di rinimazione Covid dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta un uomo a 50enne. Il 23 ottobre era stato ricoverato a poche ore di distanza dalla madre 72enne, deceduta nello stesso reparto il 31 ottobre. Entrambi erano arrivati all'ospedale Sant'Elia in gravi condizioni per una polmonite interstiziale da Covid. Si tratta della quinta vittima di Gela, dove i casi accertati di positività sono 280.